Nuova settimana, nuova divanata puntuali come sempre, siamo qui Praticamente questa settimana abbiamo visto un sacco di cose Alla stiloprima Un sacco di cose gustose, gustose Abbiamo visto l'idicolosness, siamo rientrati nel tunnel, evviva Anche la puntata con Fifty Io non so perché noi ogni tanto entriamo in questo turbinio Ma poco c'entra con la nostra divanata, quindi mi eclisso e ti lascio Allora oggi vogliamo iniziare parlando di Sensor E' stato un film uscito adesso su Prime Video Eravamo in cerca di horror, è uscito questo Sensor Attori piuttosto noti, andiamo a vedere Abbiamo resistito? 20 minuti? Sì, scarci proprio, di cui 10 a guardarci un po' intorno alla camera Non so se fossimo poco predisposti noi Perché più di qualcuno ce l'ha consigliato questo Sensor in settimana su Instagram Non ci ha preso C'è da dire che ci capita spesso di cominciare cose belle Consigliate da voi, consigliate da amici, eccetera E che magari non siamo nella giornata giusta Quindi non so, magari ci potremmo tornare tra un mesetto Però per ora l'idea che ci siamo fatti, l'impressione che ci ha fatto è no Perché Piccarto racconta la storia di questa donna Che si trova a lavorare per un organo di classificazione Che in pratica ha il compito di valutare se i film horror sono da censurare oppure no E da lì si dipana tutta una storia L'incedere narrativo è un po' zuppitante Mi singolfa, mi singolfa troppo Poi c'è da dire, noi che siamo fissati con l'argomento Che il doppiaggio italiano non è che sia dei migliori qua Ma quanto fa poi un film o una serie con un doppiaggio buonissimo Comunque giusto, diciamo Valido, in linea con gli standard italiani Fa di una buona serie, di un buon film a meno l'80% lo vogliamo dire Perché i vari attori prendono la personalità della voce Acquisisce intensità Ecco, Sensor è un film in cui l'intensità nel doppiaggio italiano si perde Già dalla protagonista per non parlare del resto Ma proprio io penso che più che un problema di voci Si è stato un problema di direzione delle voci Perché c'è qualcosa che non funziona Nell'audio Comunque, fateci sapere voi Visto che appunto in parecchio L'abbiamo devastato Però guardatelo No, no, intanto noi vi abbiamo detto cos'è che abbiamo visto Poi se voi ve lo vedete e ci dite Guardate, ne vale la pena Perché Noi lo vediamo, eh Ecco Abbiamo visto Abuela Fatecelo sapere, frecciatina Alla Abuela No, mia nonna è morta Perché non posso fare frecciatina ormai a nessuno Il tutto è la mia nonna Ma continuando Perché poi si arriva piano piano Continuiamo con una serie Che tanti di voi ci avete consigliato Su Netflix 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 Quello è quello che dicono gli psicologi Netflix 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 Lo psicologo Scendo il cane che lo piscio La suspense Che è Sandman Allora Serie molto chiacchierata Lo vogliamo dire Che è tratta per chi non lo sapesse come noi Che non lo sapevamo Da un fumetto Molto famoso Il cast di questa serie Netflix è estremamente valido Noi siamo ancora in visione Però intanto ve lo raccontiamo Allora abbiamo visto le prime tre Tre, sì Intrigante Elegante Affascinante Ma non riusciamo a entrarci dentro Neanche su questo Mannaggia È una settimanaccia È una settimanaccia Terribile C'è qualcosa che ci siamo entrati anche parecchio Però Detta così non suona bene Per niente Io vorrei Adesso Scusa se mi permetto Vabbè ma se uno ha sempre i doppi sensi Però ecco Non riusciamo bene a entrare con un'empatia Con un'empatia Nel personaggio principale Nella storia Eccetera Però Vogliamo ancora dargli fiducia No ma andremo avanti Eh Non possiamo abbandonarla Se mai il settimana prossima vi aggiorniamo Ho letto qualcosina In quel di In quel di In quel di In quel di Di internet Che è una serie bella Cinematica Ma non per tutti Quindi questo non per tutti Ho detto Non lo so se noi faremo parte di quei tutti Però Andremo avanti Ecco non è che l'abbandoniamo Ma 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 Ci siamo divanati di nascosto Senza dirvi nulla Ve l'abbiamo accennato Per il paura degli spoiler Mannaggia E abbiamo finito Mister Mercedes Tre stagioni Serie che io ho amato alla follia Più la prima stagione Delle ultime due A te è piaciuta Più la Ah Più Ti è piaciuta Più la prima stagione Mi è piaciuta di più la prima stagione Rispetto alle ultime due Sì io parlo un po' E Netflix Gestamente Scur 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 Sare peraltro tratta da Una trilogia di libri Però quello lo dico io T'è piaciuta Di Stephen King Io lo dico lo stesso Si scombina i piani Toccava a me quella battuta No Si scombina i piani Lei voleva fare la culturata Esatto Mi sono anche comprati Mi sta leggendo lei Ma perché io sono proprio l'antilettura In questa fase della mia vita Purtroppo non riesco a leggere niente Quindi Serie che mi è piaciuta Tanto Anche perché Ci sta un Brandon Gleeson Ragazzi Che è Che è il Il fulcro di questa serie No stavo cercando Non mi ricordavo Che fosse Che abbiamo la lista Ho fatto tipo Non svelare i trucchi E beh Non mi vedono che Perché gli occhiali Non vedono che cambio sguardo Si devo dire Un Brandon Gleeson Meraviglioso Che conduce Peraltro Un cast validissimo Che anche Jack Huston Di House of Gucci Che ne abbiamo parlato La settimana scorsa Insomma È un cast Bello ricco E diciamo Che Tra i vari personaggi Principali C'è anche Harry Threadway Che interpreta Una parte Ed è bravo Io è la prima volta Che lo vedo Tra l'altro Tu hai visto Questo volto Mi pare di averlo già visto Ma non mi ricordo dove C'è lui che è molto bravo C'è appunto Brandon Gleeson Molto bravo C'è anche Justin Loop C'è Brida Wall Insomma Tutti attori Che interpretano Varie parti Vari personaggi Di questa catena Sì Di Mr. Mercedes È una serie Veramente particolare La prima stagione L'ho amata di più Delle altre due Perché Diciamo che è Proprio il succo Della serie Cioè si percepisce Proprio il vero thriller Non che le altre due stagioni Sono un po' Diciamo che la prima stagione È puramente thriller Bravo Dalla seconda in poi Si va a raccontare Il thriller In maniera un po' diversa Sì Andando a toccare Degli argomenti Che sembrano fantascienza Ma in realtà Non lo sono Occhio Quindi Diciamo che vi verrà voglia Di approfondire Ma il consiglio è Se la seconda stagione Non dovesse farvi impazzire Distinto Di primo impatto Non mollate Non mollate Perché poi si capiscono Tante cose E se farete come abbiamo fatto noi Ovvero andare a cercare Informazioni su quella Apparente Fantascienza Siate curiosi Siate curiosi nella vita Sempre Scoprirete che Si nasconde molto di più Sì Di quello che può sembrare No ma poi c'è da dire che È una stagione che merita La chiusura Quindi di arrivare Fino alla terza stagione Finale Sì Perché si capiscono Tante cose E diciamo che Fermarsi alla prima stagione Sarebbe Un po' un peccato Perché Appunto Vengono spiegate Pare dinamiche Eccetera E se poi avete voglia Di leggere i libri Che so che qualcosina Non è proprio Non corrisponde Sì Però sono Comunque Cioè prendono Ecco questa serie È tratta dai libri Io sono curiosa Quindi mi sto leggendo Anche quelli È quest'estate All'insegna di Mister Mercedes Che poi L'altra è una serie Che inizialmente Potrebbe sembrarvi Al di là di come parte Potrebbe sembrarvi Una serie Abbastanza leggerina Ammorbidina Sì Ha dei momenti Così D'impatto Angoscianti Così angoscianti Così violenti In alcuni momenti Che spiazza Proprio perché Il ritmo Sembra più basso Più da Quasi una sitcom A volte Sì bravo In alcuni frangenti Per i rapporti Fra i personaggi Fra Brandon Gleeson E il resto del cast Lui è un po' Lui è un poliziotto In pensione Ecco Diamo un attimino Di contesto Che si trova A inseguire Un killer Ok E ne diventa Ossessionato Pur essendo appunto In pensione A un certo punto Per cui Questo suo vivere La pensione È complicato È combattuto È combattuto E si relaziona Con tutto il resto Del cast Che Un po' Lo considera Un po' No Proprio perché Lui è in pensione Per cui C'è la storia Di lui Che vive Alla pensione E i drammi Ad essa collegati C'è sto killer Poi ci sono un sacco Di storie Collaterali Che si legano A questo Però è Bella E troviamo Anche una Holland Taylor Che interpreta Anche qui La vicina di casa Bravissima Quindi veramente Una serie Ecco c'è da dire Che è una delle poche serie Con i personaggi Che sono tutti bravi C'è anche tra l'altro Scott Lawrence Scott Lawrence Jarrell Jerome Tutti attori Che avrete sicuramente Visto in molti altri posti Ecco alcuni volti Sono Ma devo dire Bravissimi Serie che veramente Mi è piaciuta tantissimo Che poi è bello Perché ogni stagione Ha Dei ritmi Un obiettivo Molto diversi La prima è Classico thriller La seconda va A esplorare Temi un po' Poco noti La terza È più crime È più crime Ritorna Ritorna Sui passi Ma in modo diverso Bravo Per cui È una serie Che con tanti cambi di ritmo E quelli vi piaceranno tanto Sì Devo dire Devo dire sì Quindi ve la consigliamo Non ne ha parlato nessuno Desta serie È una serie sconosciuta Che ci siamo Trovati a vedere Per caso Sì abbiamo letto La trama E abbiamo detto Vabbè Cominciamo Non sapendo neanche Che fosse appunto Tratta dai libri Di Stephen King Però abbiamo letto dopo Però veramente Andate spesso A spulciare Nelle varie piattaforme Che ci sono Perché dall'anteprima E dalla trama Potrete scoprire Potreste scoprire Delle serie Un po' sconosciute Ecco Piccole perle E questa è una di quelle E questa è una divanata Perlata Per ora Questo è tutto Ma Settimana prossima Parliamo di Fast and Furious È il momento Si arriva Si arriva al momento Vabbè Ci tocca Ecco Preparatevi Per l'anteprima